Il titolo è poetico, perfetto per l'organo cui attribuiamo la custodia dei nostri sentimenti, ma l'intento è assolutamente scientifico. Il cuore, un mare di onde difficili da cavalcare, questo il tema del convegno di altissimo livello organizzato a Pescara dalla cardiologia della Casa di Cura Pierangeli. Il direttore del reparto, Stefano Guarraccini, ha riunito attorno a sé esperti, relatori e cardiologi di chiara fama per fare il punto sulle ultime novità del settore. Per due giorni i temi connessi alla cardiologia e i suoi sviluppi più innovativi sono al centro degli incontri che si tengono a Pescara in via delle caserme. Siamo onorati oggi di avere tra noi i migliori cardiologi e cardiochirurghi d'Italia, che sono un nome a livello internazionale. Si parla soprattutto di non-invasività, di come oggi senza l'ausilio della cardiochirurgia si possono risolvere problemi importanti, quali per esempio la sostituzione valvolare aortica con la famosa TAVI. Ci confronteremo su tutti i temi della cardiologia, sull'elettrofisiologia, e sono momenti di forte crescita di cui necessitiamo, che ci danno ossigeno in un mondo in cui va tutto veloce, e soprattutto servono alle nostre realtà per affacciarsi nel mondo, per crescere e per continuare a migliorare. A noi personalmente della cardiologia di Pierangeli ci freggiamo di questi rapporti, vengono da noi a fare determinati interventi questi cardiologi interventisti di tutta Italia e quindi possiamo dire con orgoglio che siamo diventati un punto di riferimento per loro. Il progresso è frutto sempre della collaborazione? Mi pare di capire, collaborazione fra tutti gli specialisti è fondamentale e altrettanto fondamentale quando si può evitare l'intervento chirurgico ma passare per altre strade che il nostro corpo ci concede. Queste protesi bisogna che il paziente ci possa accedere, quindi di interloquire con la parte politica di chi acquista il Gisela, la mia società, lo ha fatto a Roma con gli istituti superiori di sanità, HTA, Genas, eccetera, per far capire che sta arrivando uno tsunami che dobbiamo essere pronti ad affrontare altrimenti non possiamo trattare i pazienti perché se non c'è l'acquisto dei device, di queste tecnologie, è difficile poterli offrire alla popolazione. Oggi un paziente su sette riceve questa tecnologia.